La giunta dei nove. Il nuovo sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ha la sua squadra. Ma chi sono? Da dove vengono? Cosa vogliono fare? Beh, chiediamo a ognuno la carta d'identità. Oggi tocca a lui. Assessore, prego, si presenti ai telespettatori di Rete Veneta. Claudio Cicero, 57 anni, assessore alle infrastrutture, che comprende quindi mobilità, trasporti, infrastrutture, lavori pubblici, parchi, aree verdi e arredo urbano. Benissimo, e cosa mettiamo alla voce? Titolo di studio? Perito meccanico. E ora ci dica, quali sono le sue esperienze professionali? Le mie attività professionali vanno dal lavoro subacqueo, in piattaforma, al macchine da corsa, meccanico di auto da corsa, alle macchine per oreficeria, macchine per agricoltura, macchine per la pneumatica. Poi ho lavorato anche nell'azienda delle poste, quindi conosco bene la città. Ancora macchine, veicoli elettrici. Macchine, macchine, macchine. Ora la macchina comunale. Ma qual è stato il suo percorso politico fino a oggi? Sono partito nel lontano 95, anzi prima, alleanza zonale ovviamente, fino al 2008, quando ci fu la fusione di alleanza zonale con Forza Italia, a cui non aderì, e fondai la mia lista Cicero, impegno a 360 gradi, oltre dieci anni fa. Che esperienza amministrativa ha maturato? La mia natura politica amministrativa, diciamo, che nasce dall'89 nella scuola, nel presidente del comitato degli asili nido, dei ferroieri, poi presidente del settimo circolo didattico, consigliere di circoscrizione dal 91 e dal 98 consigliere comunale alternato ad assessore, poi di nuovo consigliere comunale, poi di nuovo assessore. Insomma, ecco, questa è l'esperienza ultraventennale. Bene, oggi è assessore alle infrastrutture. Cosa promette? Guardi la telecamera e si impegni solennemente davanti ai vicentini. Tornerò a fare tutto ciò che interessa la gente, risolvere i problemi della gente è ciò che mi dà più soddisfazione.